Sono aumentate del 149%, passando dalle oltre 7.000 presentate tra il 2016 e il 2017 alle oltre 19.000 del 2017-2018 le denunce per furti in abitazione arrivate presso i vari tribunali del distretto di Milano. È quanto si legge nella relazione redatta dalla Procura Generale di Milano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tra i dati indicati nella relazione spiccano anche l'aumento del 23% degli omicidi con vittime donne e la crescita del 181% delle banca rotte fraudolente nell'ultimo anno. In netto calo invece del 45% le denunce per i cosiddetti delitti contro la pubblica amministrazione, con un meno 4% delle denunce per corruzione, mentre aumentano del 56% quelle per tratta di persone. In generale poi i furti sono aumentati del 50% e del 23% i reati in materia tributaria. Nell'83% dei casi a Milano i tempi di prescrizione maturano già nella fase delle indagini preliminari. Dagli ultimi dati a disposizione, per gli anni 2015-2017, emerge che circa l'83% delle istinzioni dei reati per prescrizione è dichiarata con decreto di archiviazione del GIP. Il tempo necessario a prescrivere matura dunque già nella fase delle indagini preliminari. Ma l'inaugurazione dell'anno giudiziario è stata anche l'occasione per parlare di sicurezza. Dopo il caso del giovane avvocato precipitato dal quarto al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Milano e che è ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, l'emergenza sicurezza è sotto gli occhi di tutti. Ora il temuto incidente vi è stato, lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Milano, Marina Tavassi, nel suo discorso. Ci chiediamo con profondo turbamento se questo finalmente servirà a smuovere qualcosa e ad attirare su Milano quell'attenzione che altre sedi giudiziarie hanno avuto. E ciò sia per quanto riguarda la sicurezza degli accessi, sia per quanto riguarda la messa a norma delle strutture per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la sicurezza di tutti quei cittadini che ogni giorno frequentano l'edificio di corso di Porta Vittoria e le altre sedi in cui si articola l'attività giudiziaria.